Musica Accendiamo i motori, diamo manette, facciamo tremare la valle 3, 2, 1, vai! Musica Iscriviti un paccio Craccio Craccio, craccio 30 minuti allora meno male che c'era il countdown che scandiva i 30 secondi che sono diventati 3 minuti molte volte erano spente troppe per cui il fonometro dice 106, 3, 103 103